Grazie a tutti. Ma è troppo importante quello che Dio ha fatto in noi e così mettiamo a nudo le nostre vite, vi raccontiamo come adesso faccio io quello che ci è successo. E da adolescente ho avuto un'adolescenza un po' turbolenta come capita a molti adolescenti, come capita a molti ragazzi. Non mi piaceva tanto stare nelle regole, non riuscivo a seguire gli schemi che mi venivano dati, quindi per me la scuola era un po' un problema. Non era fra le mie esigenze, fra le mie priorità, come non erano le priorità gli insegnamenti dei miei genitori o quello che mi dicevano di fare. Mi piaceva fare altro, mi piaceva stare con i miei amici, mi piaceva non stare a casa, mi piaceva uscire. Tutti noi sappiamo che qui la Riviera Romagnola da tanti anni dà facilmente queste opportunità. Io per lavoro d'estate stavo qui a Rimini, qui al mare e così ho cominciato da ragazzino a uscire presto e cominciare anche così a uscire con dei ragazzi più grandi. E facevo quello che facevano loro, anche se erano più grandi di me, quindi mi divertivo a fare quello che facevano gli altri. Quindi quando si andava in discoteca la prima cosa che ti danno quando entri in discoteca è il buono per bere e naturalmente non è che mi andavo a bere una Coca Cola o un'aranciata. E così questi ragazzi con cui uscivo fumavano e allora fumavo anch'io e tutto il resto, tutte le cose che non servono, non serve che elenco. E così ho fatto questi anni di adolescenza molto inquieti. In casa con i miei genitori c'erano grossi problemi, non andavamo d'accordo, non riuscivano a gestirmi purtroppo e io facevo quello che volevo. E dopo qualche anno, all'età di 18 anni, mi sono trovato a raccogliere quello che poi avevo seminato. Quindi la scuola non andava sicuramente bene, che quello doveva essere il mio compito primario. Questo lo dico a tutti i ragazzi che la scuola è importante, va fatta, va fatta bene. E ripeto, anche questa situazione in casa era veramente molto pesante, molto. Non so se qualcuno l'ha vissuta, la vive o conosce qualcuno che la sta passando, ma avere continui litigi in casa che poi vanno oltre, esasperano, è qualcosa di pesantissimo. Non soffrivano i miei genitori, soffrivo io, ma non riuscivo veramente a fare altrimenti. Quel tipo di vita, uscire tutte le sere, cercare poi questi divertimenti, lo sballo, quel tipo di vita preconfezionata che facevamo un po' tutti, era troppo importante per me. Mi piaceva peccare e anche se sapevo, ero consapevole che non andava bene, che le conseguenze sarebbero state delle brutte conseguenze, ero veramente attirato da quel tipo di vita e non riuscivo a distaccarmene. Finché, mi ricordo benissimo, una sera, sono andato in discoteca come andavo un po' tutte le sere, siamo andati in una discoteca di Riccione, che adesso ultimamente hanno chiuso, una discoteca storica, e quella sera stranamente per un susseguirsi di coincidenze, per me è stata la prima sera, avevo 18 anni, è stata la prima sera in cui io sono uscito ed ero completamente sobrio, e in quella sera mi si sono aperti un po' gli occhi, e ho visto attorno a me tutta una situazione che era a casa mia quella, cioè era nel posto dove io volevo stare, ero disposto a sbattere la porta ai miei genitori per fare quel tipo di vita, quindi per me era più importante quella famiglia lì, della mia vera, e quella sera invece mi si sono aperti gli occhi, e ho visto tutta una situazione in cui non mi trovavo bene, tutta una situazione di disagio, tutti dei divertimenti finti, degli atteggiamenti che non mi piacevano, veramente è stata una notte molto particolare, e quella mattina sono tornato a casa, e sono andato poi a letto, e come tutte le domeniche mattine, mia mamma, che frequentava questa chiesa, mia mamma come tutte le domeniche mattine, mi ha detto vieni in chiesa questa mattina, perché io quando ero piccolino ero andato in chiesa, e mi ricordo che avevo sperimentato, avevo sentito che Gesù era morto per me, avevo capito che quella era la giusta via, ma avevo fatto un'altra scelta, e io quella mattina ho detto sì vengo, sono andato in chiesa, è stata fatta una riunione come quella che stiamo facendo questa sera, c'era un predicatore che raccontava, così come sto facendo io questa sera, raccontava quello che Gesù aveva fatto nella sua vita, come aveva cambiato la sua vita, e ad un certo punto abbiamo iniziato a pregare, e io ho sentito veramente forte quella mattina la presenza di Dio, che era lì e che mi stava parlando e che mi stava richiamando a sé, e io avevo un gran desiderio quella mattina di andare tra le sue braccia, di chiedergli perdono e di rimettermi in quella strada, quella che avevo conosciuto da bambino, ma avevo mille paure, mille pensieri, mi vergognavo, avevo paura della reazione di mio padre, perché mio babbo era contrario a questa scelta di mia mamma, era impossibile per me lasciare i miei visti, le mie abitudini, i miei amicisti, il mio modo di fare, io poche ore prima facevo la vita di sempre, eppure quella mattina in un passo di fede, un attimo, un attimo, è stato veramente una frazione di secondo, ho fatto dentro di me una preghiera, e ho chiesto a Dio di aiutarmi, e mi sono trovato, c'è stato un appello, mi sono trovato lì davanti al pulpito, davanti agli altri, e quella mattina ho aperto il mio cuore, ho pregato, ho sentito Dio che perdonava la mia vita, nessuno mi ha detto niente, nessuno mi è venuto a dire niente, ma io ho sentito tangibile in me la presenza di Dio, quel Dio che era morto sulla croce per me duemila anni prima, che mi perdonava, e mi riprendeva a sé, e mi abbracciava, e non c'era giudizio, non c'era accusa, non c'era nulla delle cose che avevo fatto brutte, davanti di Lui, ma c'era un amore meraviglioso, che mi riempiva tutto, riempiva i miei pensieri, la mia anima, tutto il mio essere veniva coinvolto, e sentivo dei pensieri nuovi quella mattina, un desiderio nuovo, un desiderio di leggere la Bibbia, di servirlo, di parlare agli altri di Lui, e pensando a quelle cose invece che prima, poche ore prima mi piacevano, che per me erano la mia vita, le vedevo brutte, le volevo allontanare da me, non le desideravo più, quella mattina Dio ha rivoluzionato completamente la mia vita, quella mattina io posso dire che Dio mi ha salvato, ho sentito in me la certezza della vita eterna, ho sentito in me che se io morivo, io andavo in cielo con Dio, quella sensazione, quei sentimenti, quell'esperienza, sta andando avanti ancora, fino ad oggi, sono passati qualche anno, non ho più 18 anni, anche se non sembra, non ho qualcuno in più, e ringrazio Dio, ha fatto delle cose bellissime, nella mia vita non me le merito, non me le merito nessuna, e questa sera essere qui con a fianco mia moglie, e una delle mie figlie è per me una gioia incredibile, assieme lo serviamo, ha ricostruito pezzo per pezzo il rapporto con i miei genitori, ha ricostruito la mia vita, ero un vagabondo, un ribelle, e pezzo dopo pezzo mi ha fatto l'uomo che sono oggi, e io non posso fare altro che ringraziarlo, e dire a tutti di fare la stessa esperienza, lasciatevi andare nelle braccia di Cristo, perché è la cosa più bella della vita, Dio ci benedica.